No, no, dici veramente che si trova a vincere. No, l'ho detto, è estremamente emozionante, sono andato dietro le quinte e non ci ho più capito niente. È stato molto bello, ho scontrato anche Saverio dietro le quinte, è stato molto emozionante. Senti, avete vinto tantissimi per il video. Sì, 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 è bello. È un film che è medio. È un film che è medio, assolutamente. Non ci vuoi proprio capire nulla? Che vi devo dire? Spegnete sta luna, eh. Ciao, ragazzi. Ciao. A chi lo dediti? Come festeggerà? Come festeggerà? Adesso la giornata è diretta. Ma come? Assolutamente diretta. No, non lo so, spero che si vedrà una cosina, un prosecchino e poi ce ne andiamo a casa. Senti, ma lo chiamavano Girobo 2? C'è Mainetti, dovete chiedere a lui. Mainetti, stanno gli sceneggiatori. Io sono un esecutore. Sì, volentieri. Per carità. Grazie. 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 Grazie.